C'è un cauto ottimismo in relazione alla vicenda dell'alga tossica che sta tenendo con il fiato sospeso turisti, imprenditori balneari e sindaci della costa sud dell'Abruzzo. I livelli hanno raggiunto il picco, per cui si ipotizza una fase discendente della fioritura che consentirà di spazzare via le preoccupazioni. I prelievi dell'8 agosto avevano riscontrato dei valori alti in alcune zone di Ortona, San Vitochietino e Rocca San Giovanni. L'andamento è quello di una fioritura che ha un picco, evidentemente, ma avrà senz'altro una fase discendente. Siamo speranzosi che la fase discendente sia in corso. Ci sono alcuni punti in cui è stata rilevata quest'alga. Quali possono essere i rischi per la salute? I rischi sono legati alla palatossina, una tossina del mondo marino, propria di questi organismi monocellulari, che può essere tossica laddove ricorrano tre condizioni, forte e mareggiate, nebulizzazione di acqua e inalazione. Ecco, è difficile che tutte e tre queste condizioni meteomarine si verifichino, quindi l'alga desta una preoccupazione in fin dei conti relativa, se non minore. Il contatto, il semplice contatto, non desta preoccupazione.